Musica Hola a todos io sono Cronox ben ritrovati nel mio canale Ragazzi eccoci in una nuova classificata sul Rainbow Molti di voi saranno contenti Spero di esserlo anch'io con una bella vittoria Perché sapete ormai che sono sceso di Lega Con le tante sconfitte che ho ottenuto Grazie a dei team davvero eccezionali L'ostaggio l'abbiamo trovato so dov'è Però non siamo riusciti ad individuarlo perché ci hanno distrutto i droni Poi vi volevo chiedere un'altra cosa Andate a supportare anche Overwatch Perché non lo state supportando come voglio io Lo state supportando davvero poco E questa cosa non mi va molto giù Quindi mi raccomando andate a supportare anche Overwatch Perché è un gioco che a me piace e quindi merita a mio avviso Non seguite sempre solo Rainbow e cose del genere dai E qua l'ostaggio Finalmente l'ho individuato Brava Twitch Quindi non c'è nessuno dalle scale Ah è meglio controllare sempre Non mi pare di sentire alcun rumore Quindi forse posso andare tranquillo Ma dico forse Ok Attenzione double headshot Triplo headshot No raga voglio tantissimi like per questo triple headshot Eccezionale Dovete spolliciare assolutamente ragazzi Ditemi nei commenti se avete mai fatto una tripla in quel modo Che cazzo fai imbecille Sono rimasto con 40 HP Sono inutile Non abbiamo nemmeno il dock squadra Almeno mi avrebbe curato Io ora con 40 HP Sono più inutile di una mutanda sporca Dai mettiamo il gem Levanti dal cazzo imbecille Ok Dai almeno uno l'ho fatto fuori Guarda la hash Sì vabbè Un'altra l'ho fatta fuori L'ultimo nemico rimasto Dai dai Grandissimi Ce l'abbiamo fatta Io con 40 HP ho ucciso due persone Vi rendete conto Voglio assolutamente tantissimi like per questa puntata C'è morto con la trappola di Gapkan Glads Che cose assurde stanno accadendo Ragazzi eccoci nuovamente in attacco Ho deciso di rimettere Blackbeard Dopo la tripla che ho fatto nel primo round Per forza dovevo rimetterlo In ogni modo anche stavolta abbiamo trovato l'ostaggio Ma non siamo riusciti ad individuarlo Perché c'è Mute con il jammer Che non ci ha dato modo di entrare nella stanza dell'ostaggio Però sappiamo dov'è Brava Twitch Vai a distruggere tutti i jammer e quant'altro Però io per sicurezza un drone Lo butto Voglio vedere un attimo com'è la situazione qua Nello stanzino non c'è nessuno No Ok Quindi mi raccomando Thermite Non fare stronzate Ti controlla anche questa stanza Anche questa è vuota Qua abbiamo Blitz E' tutto libero Vai Thermite puoi proseguire In teoria non dovrebbe esserci nessuno Perché c'è qualcuno della mia squadra in quel punto Blitz dov'è? Ah è nascosto là dietro Sopra c'è qualcuno? Bravo Thermite ha piazzato la Glamour Ok quindi c'è qualcuno di là Io vi copro Ah in realtà non ce n'è bisogno C'è la Glamour di Thermite Io vi copro sopra Non arriva nessuno da qua ok Ah già è esploso malissimo Blitz Dai Dai Esci fuori di nuovo Raga vorrei fare una provata con la pistola Però va a finire che muoio Non vorrei rischiare Quindi nel dubbio Uso il drone Rimangono 15 secondi Ostaggio in vista Ok vicino all'ostaggio Mancano 10 secondi Oh oh ce l'ho fatta raga Mamma mia che provate sto facendo in questa partita Da notare qua si era rimessa l'arma Poi alla fine si è messa la Desert Eagle dorata Una cosa bellissima Ok siamo di nuovo in difesa Mi trovo molto bene con Mute Quindi l'ho rimesso Diciamo che questa partita L'ho incentrata su Blackbeard e Mute Sono due operatori molto bravi a mio avviso Hanno delle abilità molto interessanti Ci è entrato il drone qui Ok uno l'ho distrutto L'altro l'avete distrutto voi Non lo vedo Ah eccolo qua Ok distrutto Ok qua mettiamo un bel jammer Hanno glads quindi Dobbiamo fare molta attenzione C'è un drone C'è un drone Però non so dove sta Mettiamo un jammer anche qui Grandi anzi facciamo una cosa E attenzione Bandit fa le stragi Lo mettiamo in questo modo Così il drone non può passare Dalla porta Dovremmo stare a posto Credo Capcam controlla dal buco Io controllo dalla porta Dai Ultimo nemico rimasto È rimasto È rimasto l'ultimo nemico È rimasto l'ultimo nemico Grande Capcam E c'è una vittoria perfetta Attenzione ragazzi Finalmente Una partita degna Di tantissimi like Ah era pure caduto Capcam Guardate un po' Un bellissimo 4 a 0 Ma la cosa più bella Di questa partita È stata la tripla Nel primo round Di headshot Con blackbeard Una cosa davvero assurda Vediamo un po' Punteggio 6 kill e 0 morti Sono stato il migliore A quanto pare Però mi ha messo al secondo posto Non si sa per quale assurda ragione Finalmente Sono risalito a oro 2 Grande Questa è la partita Che mi ha riempito di soddisfazioni Beh ragazzi Dopo una partitona del genere Possiamo anche terminare Mi raccomando Lasciate tantissimi like Commentate Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Condividete il video Con i vostri amici E seguitemi Sui vari social network Che trovate in descrizione Che sono facebook Instagram E snapchat E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao